La caccia è un'attività fondamentale, sia per l'agricoltura che per la società in generale. Se per esempio lupi o cinghiali non sono tenuti sotto controllo, finiscono con il diventare pericoli enormi per tutti noi, in quanto vanno a ostacolare lo svolgimento delle nostre attività, arrivando in alcuni casi a minacciare la nostra stessa incolumità. La caccia serve sia per controllarne il numero, sia come deterrente per evitare che si avventurino troppo nei centri abitati e nelle nostre aziende agricole. Oggi si sta facendo di tutto per ostacolare lo svolgimento, senza però rendersi conto che il lusso di opporsi è dato da attività come la caccia stessa, che rendendoci liberi da pericoli esistenziali enormi, ci permettono di occupare la nostra vita con altro.